Lo studio è un magazzino per le idee, per conservare un po' tutto quello che hai in progetto e che cerchi di realizzare in futuro. Io ho preso questo studio in Piazza Rivoluzione perché pensavo di collaborare un po' alla storia di questa piazza, che poi è diventato veramente uno spazio di passaggio, uno spazio turistico, uno spazio che ha perso parte della memoria storica. Il mio lavoro è basato su una raccolta di immagini e della memoria che poi vado a manipolare, a disturbare. Creo delle similitudini con quella che è la memoria storica e quella che è la memoria che si sta formando. Tutto ciò che stiamo vivendo in realtà per me è qualcosa che è già esistito, sono pensieri che si continuano a rinnovare e a modificare nel tempo ma che rimangono sempre uguali. La cosa drammatica è che molti pensieri sono dei pensieri di cambiamento e in realtà non cambia mai nulla. quello che racconto è che questa umanità sta un po' ferma, che si è un po' impantanata anche in alcune battaglie, anche in alcune direzioni culturali o intellettuali. si parla, si agisce ma in realtà si rimane tutti fermi, come bloccati nel fango e questa è una delle ragioni che mi porta a giocare. più che altro, sono dei lavori che hanno una sottile ironia e anche un po' di cinismo e molte volte nascondono quella parte di me che non riesce a sopportare tutto quello che sta succedendo. Lavorare con le immagini del sacro è come lavorare con qualsiasi immagine storica. C'è una presenza di queste immagini perché sono circondato da queste immagini. sono nato in un territorio dove la religione fa parte della discussione quotidiana, nel bene e nel male, nella preghiera e nella bestemmia, quindi la presenza del divino è come una presenza costante nella tua avventura, nella tua vita. Tutto quello che fa parte del mio lavoro è in realtà tutto quello che sono le discussioni importanti del nostro contemporaneo, ma anche le banalità più estreme, in realtà i punti di osservazione sono molto estesi. A me piace guardare le persone, a me piace guardare cosa è la gente, cosa è la gente adesso. In realtà pensare di dare una direzione io a creare dei lavori che sono i punti di riferimento per me non è questo, per me i lavori hanno una funzione, dovevano essere dei punti di inizio per una discussione, quindi quello che io riesco a incamerare osservando è quello che poi io propongo per cercare di capire che direzione si sta prendendo, ma non da solo. Una cosa per me molto sacra è il confronto, vedo l'opportunità di fare arte, l'opportunità di poter conoscere e capire le persone, di capire chi scrive un libro perché l'ha scritto, chiedere, domandare e non è quello di presentare una mia idea del mondo o una mia idea della cultura, della direzione culturale, anzi secondo me non ci sono direzioni culturali che vanno prese ad esempio. La responsabilità del fare arte c'è, c'è una responsabilità come in tutti i mestieri, non penso che fa parte di chi ha comunque, sta mostrando un lavoro, ha la responsabilità di mostrare un'integrità in quel lavoro, una qualità e soprattutto una coerenza o anche un'incoerenza, una giusta incoerenza che fa bene. Nell'arte rispetto ad altri lavori l'incoerenza secondo me è anche un punto di forza, non essere troppo certi della propria direzione ma cambiarla continuamente perché il problema principale è la direzione principale di un artista è quella di farsi domande, è quella di interrogarsi continuamente su quello che sta succedendo, su che posizione prendere, che direzione seguire. Ecco una certezza mi sconforta nell'arte o in un artista quando si innalza per esempio troppo in alto un artista e si fa diventare come modello per un'intera umanità, questa è una cosa che è un po' spaventa perché in realtà non ci deve essere mai un modello da seguire, un unico modello ma uno deve costruire la propria vita creando dei tasselli, creando un tasselli di pensiero, di idee, di direzioni, di battaglie per creare la propria persona, la propria figura, la propria direzione politica, la propria direzione etica, il proprio entusiasmo. Avere una direzione unica per tutti o poche direzioni uniche elevate come modello per tutti per me è una cosa un po' pericolosa e l'arte molte volte lavora con questi modelli, lavora molto sulla propaganda del modello unico, che questa è una cosa quasi da burocrate. Il mettersi in discussione, il prendersi sul serio, tutto quello che è importante molte volte è veramente molto nascosto. Io mi rendo conto per esempio che vivendo in un quartiere molto forte di Palermo, ma vivendo nella stessa Palermo, vivendo una città che racconta il mondo, lo racconta con la sua ignoranza, lo racconta con la sua paura, lo racconta con l'atteggiamento, con cose che sono molto oltre impercettibili. È come la vita di un operaio che è in Cassa Integrazione. In realtà si lavora continuamente, non si percepisce mai qual è la propria azione, cosa si è fatto, cosa stai dando agli altri o quello che sta uscendo da quello dal tuo mondo e va verso la direzione esterna, non sai mai se è stato recepito e se ti tornerà indietro qualcosa. Ma lo fai lo stesso, lavori lo stesso. Quasi una missione religiosa diventa. Ed ecco che puoi anche abbandonarlo un giorno, sono pienamente convinto che quando non si ha più niente da dire, per esempio, è un qualcosa che va abbandonato. Un fine percorso, io penso che molti artisti, per esempio storici, debbano finire una volta che hanno concluso le cose da dire e passerà ad altro. È un momento della vita che secondo me bisogna intraprendere, se si ha la voglia e soprattutto se ne ha bisogno, ma durerà pochissimo, non può durare tutta una vita. Questo è una piena consapevolezza. Ecco perché molte volte mi entusiasmo per altre cose, come il progetto Sacro Santo è un progetto che mi entusiasma perché crea delle relazioni tra persone, perché mi occupo di un luogo, anche della mia città, ma non come artista, ma come persona che apprezza una cosa e sa chi chiamare. Il piacere è lavorare con persone che rispondono subito quando si parla di un argomento che può essere il fare qualcosa per gli altri, per prendersi cura di qualcosa di qualcuno. Ecco, ho chiamato questi artisti e hanno risposto subito. Questa è la cosa che mi ha più messo, secondo me, alla posizione di continuare con Sacro Santo. Ho avuto un entusiasmo e questo entusiasmo non mi ha portato ad andare avanti. Purtroppo non è un progetto che ha la direzione e che può proseguire in futuro, perché tira anche molta energia. Quindi so che ho fatto questo e ora spero che gli altri facciano altri progetti simili o di altra forma, ma che vadano sulla direzione di occuparsi di qualcosa o di qualcuno e non pensare solo alla presentazione delle proprie idee, della propria forma. Mi nutro per fare ciò che faccio, mi nutro di tutto, di tutto ciò che vedo per strada. Vivo molto la strada, Palermo per esempio. Anche quando sto a Parigi vivo molto Parigi per la strada. Leggo quello che mi piace leggere, non prendo le direzioni legate a quello che c'è da leggere, a quello che c'è da studiare nella propria vita. Penso che tutto va ricercato. Faccio quello che mi piace, quello che mi va e spero di continuare a farlo. La mia paura molte volte è di rimanere ingabbiato in paura della mente, a cercare di recuperare, cercando di mettermi in riga, prendendo delle scelte per nutrirmi di qualcosa che forse mi può dare di più. Ma in realtà tutto deve essere molto naturale. Quindi quello che cerco di fare io è essere sempre molto naturale, trovare delle cose che riescano a caricarmi. Ho bisogno di energia. Questa è la mia idea di famiglia, che prendo una coscienza sociale, quindi la costruzione della società, della micro società, che è la famiglia, tutto parte da lì. Avere la coscienza di quello che si è, di quello che sono i ruoli e della qualità della costruzione. Il pensare che la società a educare, a modificare invece gli individui, questa è una cosa per me un po' mostruosa. Il passamontagna lo vedo come elemento che viene un po' attribuito a chi contesta, al contestatore, al rivoltoso, a chi comunque fa un'azione, molte volte politica d'assalto. Commettendo questo passamontagna cambio, una fotografia normale in qualcosa che forse può essere il principio di un'azione, un'azione politica, un'azione che può forse dare un cambiamento. Poi anche questi sguardi hanno suggerito una visione del futuro e del passato, tra gli occhi degli anziani che sono un po' sospesi nei ricordi, invece gli occhi dei ragazzi che hanno questo sguardo dritto verso il futuro. Collage digitale, sono varie lavorazioni in digitale su una foto storica che ho recuperato, che portano poi a questa immagine che poi cancella totalmente quella precedente e crea, come se fosse un'immagine reale, diventa un'immagine vera, riutilizzata ed ecco un falso storico, che un po' siamo circondati dalla falsità storica, dalla falsità delle notizie, dalla falsità della costruzione, dei fatti. E lo stesso ad ora, perché non manipolare anche la nostra realtà e la nostra costruzione della realtà, ma come una specie di sogno in positivo, questa immagine che ho recuperato, questa immagine di un uomo che abbraccia il cavallo, questa forma di libertà, di fantasia al potere degli anni 70 che non è mai arrivata, per fortuna o per sfortuna, questo non si sa, in realtà questa mano sta coprendo lo sguardo, sta offuscando completamente la possibilità di vedere il futuro e di vedere anche il passato, in realtà noi viviamo con questa guerra che è sempre sopra di noi, sopra le nostre teste. In questo momento viviamo con tutte le paure e le difficoltà di decisioni politiche che sono molto più forti di quelle che possiamo immaginare. È una mia visione del viaggio in Italia, dove in realtà sono dei lavori del 2013, dove immagino di fare questo viaggio in Italia, è di raccontare l'Italia con tutte le sue problematiche, un'Italia dove tutte le energie vengono succhiate da una politica che continua a divorare, a pensare solo al proprio stomaco, a questa Italia che comunque la immagina di un'Italia carica di fratture, questo individuo comunque fratturato è sempre cagionevole, in realtà queste fratture vengono poi medicate alla buona politica, in questi giornali che portano poi le notizie di tutte le turbe che sta provando il nostro paese, è quella Sicilia che chiede aiuto all'Europa per gli sbarchi ed è un lavoro vecchissimo, stiamo parlando ancora, non si sentiva tutta questa energia, era semplicemente una visione che poi adesso è scaturita in questa fobia, in questa tensione politica, in questa direzione di nuova politica europea per esempio e questa è la visione dell'Italia. oggi, queste sono tutte le generazioni sacrificate, compreso la mia.